Ci sono anche i passaggi che abbiamo appena passato, ho trovato un altro e altri due là. Sono questi i metrici proprio perché il fratello quando ti richiede a vedere un sottimotria diciamo che la sua anima è come se fossi in pace, per trovarsi una serenità guardando un sottimotria. Allora questo è un dipinto di 70 anni da padre che è la figura di questo bambino che gli appare e quindi avviene la conversione. Allora qua ci sono due episodi che sono quando a 70 anni si trovava a Rumi. Allora doveva praticare alle persone che però non riuscivano a convertirsi. Allora lui ci doveva praticare agli animali proprio ispirandosi a San Francesco così che appunto le persone vedendo che gli animali si convertivano allora anche loro avrebbero dovuto convertirsi qua invece con i pesci. E appunto si riferisce proprio a San Francesco che criticava anche lui degli animali. Di che età sono questi? Questi qua credo che siano proprio quando non è costruita la chiesa. Perché questo sembra parecchio rovinato. Eh sì. Allora questi invece sono due staglie che sono più, l'epoca più recente. Credo che siano stati in massima cinquantina di anni qua. Allora di qua invece...